Senza né arte né parte, senza né capo né coda, la Roma continua a spingere, finalmente si vede qualcosa di bala oltre la validità soggettiva, incute coraggio ai suoi compagni di squadra, ai suoi compagni giallorossi e dall'ottantaquattresimo che la Roma sta spingendo. Nell'ottantacinquesimo è stato ammonito l'argentino, Mourinho non ci sta, forse è volata qualche parola grande, insomma Mourinho è stato espulso e poi siccome oggi non va assolutamente, e beh che dire, al novantaduesimo ci danno un calcio di rigore, finalmente ce lo danno, era sacrosanto, ma c'è stato uno sbaglio madornale da parte della società giallorossa. Il meno indicato a tirarlo era Belotti che era l'ex di turno, ce n'erano altri di rigoristi, in mancanza di Lorenzo Pellegrini, poteva tirarlo lo stesso di Bala, poteva tirarlo Madic, poteva tirarlo qualche altro giocatore, l'hanno fatto tirare a Belotti e Belotti ha colpito il palo. Quindi ancora Roma 0 Torino 1, ci sentiamo al prossimo collegamento.